Dimensione Verde 1, società specializzata da 15 anni nella realizzazione di aree verdi. Esegue lavori di piantumazione, impianti di irrigazione automatici, prati fronti, prati a rotolo, semine, concimazioni, potature, abbattimento alberi di alto fusto, arredo urbano per giardini privati e pubblici. Dimensione Verde 1, è pronta per qualsiasi tipo di intervento, 24 ore su 24. A coloro che spendono più di 3.000 euro, verrà offerto un weekend romantico per due persone in località Fassinoro, presso il Country House Band & Breakfast Lulivo Antico. Dimensione Verde 1, a Roma in via Sabatino Gianni, telefono 393 94 44 400.